La coraggiosa Tara Duncan e i suoi amici ti aspettano anche on demand e su Sky Go. Dea Kids, il tuo mondo dove e quando vuoi. Tra poco, link con H2O, solo su Dea Kids. Ma io dico che la mamma non è molto contenta a sapere che fa gli occhi dolci ad Andrea. Ci sono storie parallele che ogni tanto si uniscono. Storie nascoste da scoprire. Tu sei uno di quelli che mi dai? E storie nuove, ancora tutte da scrivere. Lasciati emozionare da Marta e Eva. Una nuova serie. Una nuova serie. Da lunedì 6 giugno alle 19.50 su Dea Kids. Come erano le prime galassie? Si può benissimo paragonare alla nascita di un mito. C'erano migliaia di pianeti che non conoscevamo. Quell'atto di distruzione è in realtà un atto di creazione. Tutto svanirà. Celebriamo il fascino dello spazio con un viaggio interstellare lungo una serata. Discovery loves space. In prima TV assoluta. Venerdì 3 giugno dalle 21.00 su Discovery Channel. Tornano i DigiBirds. Più canterini che mai. Accarezzali e cinguettano. Se fischi cantano. Un amico speciale da portare dove vuoi. Cantano tutti i... ...del cinema e della TV. Scopri tutte le novità su cinecittaworld.it. Tira rigori. Il gioco di calcio più veloce di sempre. Siete pronti per la sfida? Una partita mozzafiato per giocatori abili e veloci. Segna tutti i cinque dischi. E diventa il campione. Tira rigori. Da grandi giochi. Anche con l'arrivo della bella stagione il mio cane può avere bisogno di protezione. Frontline lo può proteggere da pulci e zecche ma anche da zanzare e pappataci. E riduce il rischio di leismaniosi. Frontline Triact. Una protezione che ti segue ovunque. Plus, clues e new. Tanti bei timbrini li devi solo trovare. Cosa c'è nel cassettino? Dalla tua collezione per giocare con blu. È un divertimento da timbrare con i timbrini di Blues, clues and you. I materassi Emma sono i più premiati in Italia per la loro qualità. Ordina ora e risvegliati come hai sempre sognato. Approfitta degli sconti su emamaterasso.it Vivere tutti insieme. Cosa? Le avevamo lasciate così. E adesso? Ti dichiaro marito e moglie. E sorelle. Adesso sono proprio sorelle a tutti gli effetti. Mmm, basta. Fige, questa convivenza non può funzionare. Quel che è certo è che faranno di tutto per liberarsi una dell'altra. One Wish. Una nuova serie in prima tv assoluta. A giugno. Su Dea Kids. E ora, link con H2O. Solo su Dea Kids.